Primi livelli di un torneo multitable come il campionato nazionale Poker Club in corso a campione d'Italia ad Alessandro Pastura vengono date queste carte un giocatore early position ha rilanciato 6 di bottone, come ti comporti? Abbiamo una coppia media, una buona coppia anche se non una coppia non fortissima la gioco in maniera diversa nelle varie fasi del torneo se fossimo nelle fasi più avanzate del torneo la giocare in maniera molto più aggressiva in questo caso con le coppie medie per me avere 8-8, 9-9, 10-10 non cambia tantissimo giochiamo per set mining io spero che dopo il raise del primo giocatore ci siano anche dei call dietro questo mi dà ulteriori odds per andare a cercare il mio set diciamo non la gioco in maniera molto aggressiva ai primi livelli mentre poi andando avanti nel torneo è una mano con cui giocare in maniera decisamente più aggressiva chiaramente parliamo sempre di giocare questa mano contro un avversario che non conosciamo se poi sappiamo che è un avversario molto lag che apre con un range di mano molto ampio possiamo anche pensare di tribettare fuori posizione a maggior ragione a maggior ragione la giochiamo io la gioco proprio per set mining questo tipo di coppie ai primi livelli sono ottime per estrarre valore da un eventuale set se l'avversario è aperto con asso cap e casca asso 10-2 è una mano ottima per possiamo farci uno stacking esatto 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 Grazie a tutti